Cari amici di WebamTV, siamo a Milano, a Palazzo Reale, alla mostra sui pre-Raffaeliti. Questo è un ritratto di Ophelia di John Everett Millais. Millais ha ritratto l'eroina shakespeariana subito dopo il suo suicidio, Ophelia. Dopo aver scoperto che Amleto ha ucciso suo padre, si getta nelle acque. E qui la vediamo appunto ritratta, poco dopo, morta nelle acque. Questo è un quadro importante perché la musa, la donna che prestò il volto all'eroina shakespeariana, è Elisabeth Siddall, ovvero la grande modella che si prestò per tutti i pittori pre-Raffaeliti. Questo è un quadro veramente eccezionale, forse uno dei migliori della mostra, quindi io vi invito assolutamente a venire a Milano, a Palazzo Reale, alla mostra sui pre-Raffaeliti.